Gentili telespettatori, buona giornata. Dall'inchiesta sul covid fatta dai giudici di Bergamo stanno saltando fuori tante cose perché dopo tre anni di indagine vengono fuori molte cose che non sapevamo, come i tamponi non so se avete visto uno dei miei video precedenti a questo, come i tamponi pagati all'inizio 750 euro a tampone mentre il valore industriale era 2,82 euro, 750 euro a tampone, avevano speso oltre 750.000 euro per fare 800 tamponi una roba del genere. E così oggi si scopre un'altra cosa, che quattro professori italiani avevano scritto un'email a Vendola e Speranza. Voi dite Vendola chi? Niki, non avete chiamato Niki? Io credo che Niki Vendola sia Nicola Vendola però non ne sono sicuro, magari si chiama Niki. Qualcuno si fa chiamare Niki, una volta conoscevo una ragazza Michela, Niki, Niki, non con la N Niki ma con la M, Niki. Vengono così dei soprannomi. Va bene. Zangrillo, Pesenti, Grasselli e Ranieri parlavano di un contatto cinese ad alto livello, a Ibo, qui, che aveva studiato in Italia. Il messaggio del 12 febbraio 2020. In ospedale per i pazienti serviranno dei percorsi isolati, in Italia ne abbiamo pochi, attenti alle terapie intensive, diceva questa persona che aveva studiato in Italia e che aveva avvertito i professori di quello che sarebbe successo da lì a poco. Ecco, una email inoltrata da Niki Vendola al ministro della salute, Robby Speranza, Robby per gli amici, il 12 febbraio 2020, e subito girata ai dirigenti del ministero. Riportava notizie di primissima mano provenienti dalla Cina, direttamente da Wan. Wan sembra un po' quel pupazzo, vi ricordate che Bonolis aveva dei pupazzi quando faceva quella trasmissione per bambini, e c'era anche il pupazzo Wan, ve lo ricordate, no? Va bene. E così arrivava questa notizia dalla Cina, direttamente da Wan, grazie a un canale di informazioni inedito di cui non si è mai parlato. Mancavano ancora otto giorni al famoso paziente 1. Il messaggio, che agli occhi dei giudici di Bergamo, o meglio, dei pubblici ministeri, è uno degli alert anticipati, arrivati in quel periodo dalle autorità italiane, e tra gli atti acquisiti della Procura per le indagini sulla gestione della pandemia Covid. I quattro, bene. Il governatore della Puglia, o meglio, il presidente della Puglia, aveva ricevuto la mail alle 12.45 del 12 febbraio 2020, da quattro medici e professori universitari, Alberto Zangrillo, Antonio Pesenti, Giacomo Grasselli e Marco Ranieri. Quest'ultimo era il contatto politico, probabilmente ritenuto adeguato, per raggiungere più rapidamente il governo. Caro Niki, nei giorni scorsi siamo stati contattati da Aibo Hui, presidente della Società Cinese di Terapia Intensiva, Kea Wan, inviato dal governo federale. Aibo si è formato in Italia, ha passato diversi anni a Torino e Milano, lavorando con noi su progetti di ricerca clinica. Al di là della differenza tra il quadro che Aibo ci ha fornito e i dati ufficiali, c'è da evidenziare il numero di malati che in Cina oggi hanno bisogno di ricovero in terapia intensiva per trattamenti avanzati della insufficienza respiratoria. Se sviluppassimo la percentuale di pazienti ammessi in terapia intensiva sulla base del numero di infetti, dato oggi dall'OMS, sono 9.000 i pazienti che avrebbero bisogno di ricovero in terapia intensiva. Quindi l'allerta quasi profetica dei quattro medici. L'attività del governo italiano in questi giorni è giustamente concentrata su misure di isolamento e prevenzione, tuttavia, viste A, aperta parentesi, le dimensioni del problema e B, la necessità di ricoverare pazienti in terapia intensiva, attrezzate per garantire l'isolamento assoluto, camere a pressione negativa, sarebbe augurabile aprire un tavolo tecnico dedicato alla problematica del trattamento in terapia intensiva delle forme più gravi. Quindi i medici dicono, non sappiamo che le terapie intensive in Italia sono meno di quelle che dovrebbero essere, attivatevi subito. Il messaggio era assolutamente chiaro. Bisogna aumentare subito, immediatamente, i posti letto, quelli in terapia intensiva. E nella lettera c'è scritto, per darti un esempio, i posti letto di TI, terapia intensiva in Italia, sono stimati in 5,18. Di questi, non più del 4% può essere isolato a pressione negativa, cioè pochissimi. Nel testo, inoltrato da vendola, che non rivestiva alcun ruolo ufficiale, c'era tutto. E in particolare il rischio del concretizzatosi poi nel mese successivo. L'11 marzo, l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è ricordato come il giorno in cui furono stravolti i reparti per arrivare a creare fino a 100 posti letto di terapia intensiva. Ma c'era anche in quelle e-mail un punto di vista privilegiato su Wan, che nessuno avrebbe citato nei mesi a seguire. Quello del medico, che nella città cinese aveva uno dei compiti più difficili. Meno di tre ore dopo, il ministro Speranza aveva inoltrato la mail di vendola ai dirigenti del ministero. Ci stiamo lavorando, aveva risposto il segretario generale Giuseppe Ruocco. Pensiamo di dare una prima bozza di piano martedì. Quindi, prossimo, e poi il resto lo conosciamo tutti. Queste indagini dei giudici, i magistrati di Bergamo, sta facendo chiarezza, sta facendo una sorta di... la storia di quello che è successo, la storia di quello che è successo da A alla Z, dal primo giorno all'ultimo, con tutto quello che è successo, molto dubbio. E, naturalmente, questa rimarrà una storia, la storia del virus in Italia, con i suoi protagonisti, che io credo, personalmente, poi magari mi sbaglierò, io credo che non pagherà quasi nessuno per gli sbagli fatti. Però, vedremo quello che succederà nei prossimi mesi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.